buonasera buonasera sono le 11 e 25 stiamo andando siamo bloccati nel traffico con una di cash kai un nome molto carino per chi fa parkour non compratevi no veramente sono lentissimi a cosa vi servono i soul ragazzi a cosa vi servono sono via è arrivato francesco ed eccoci di nuovo siamo a foggia siamo a termini merese termini merese 30 minuti ma no ma non vedi come imbiancato sappada siamo a sapata Oh, buono, buono, eccolo lì, eccolo lì. Go, action. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. E mentre gli altri si allenano, noi ovviamente cosa facciamo? Ci imbombiamo di cibo. Una cosa leggera leggera. Buon appetito.